lezione 7 settima lezione in banca prima parte stamattina devo andare in banca con giovanna lei deve versare un assegno sul suo conto corrente io ho dei fiorini e anche delle sterline e dei franchi francesi rimasti dei miei viaggi all'estero li vorrei cambiare in lire italiane tra pochi giorni partiamo per la montagna poi vogliamo visitare venezia il centro e il sud dell'italia abbiamo bisogno di parecchi soldi per fortuna ho degli assegni turistici li posso incassare dappertutto in italia ma bisogna fare in fretta le banche sono aperte solo dalle otto e mezzo all'una e mezzo e al pomeriggio non riaprono più come una volta seconda parte allo sportello del cambio per favore vorrei cambiare questa valuta vediamo un po fiorini franchi sterline altro vorrei anche incassare questo assegno turistico allora ho bisogno di un documento la carta d'identità va bene come vuole oh santo cielo dov'è non la trovo più guardi con calma ecco qui almeno ho il passaporto il suo indirizzo in italia posso dare quello di mia figlia a torino benissimo si accomodi alla cassa no un momento firmi l'assegno per favore o scusi dimentico sempre qualcosa la cassa è qui a fianco c'è molta coda non può fare tutto lei no mi dispiace può ritirare i soldi solo alla cassa un versamento tutto fatto giovanna e tu ma che sono ancora qui qualche volta faccio in un minuto dipende dagli altri sportelli molti sono chiusi mi aspetti sì ti aspetto all'uscita desidera signorina devo versare questo assegno su un libretto di risparmio no lo verso sul mio conto corrente ecco il modulo la devo aiutare no grazie faccio da sola dunque numero dell'assegno banca di emissione importo va bene così perfetto passi alla cassa a prendere la ricevuta un incontro imprevisto ciao franco come va oh paolo così così lucia non sta tanto bene che cosa una brutta influenza o poveretta come la capisco come fate per le vacanze non so ancora per ora le bambine vanno al mare e voi quando andate via lunedì prossimo hai molto da fare in banca o solo da ritirare del denaro non sto molto mi accompagni solo per due minuti mentre aspetto giovanna alla cassa moretti buongiorno signor moretti vediamo si va bene come li vuole i soldi due biglietti da centomila due da cinquantamila tre da diecimila due da cinquemila e il resto da mille ecco qui oh scusi può cambiare questo biglietto da duemila vorrei venti monete da cinquanta e dieci da cento subito signore ecco buongiorno terza parte al cambio vorrei cambiare centomila lire in valuta estera aspetti un momento signore chiamo l'impiegato mi dispiace ma ho fretta allora si accomodi a questo sportello lo faccio io grazie per favore le cambi in franchi svizzeri non abbiamo franchi svizzeri in cassa santo cielo dove li trovo a quest'ora li può cercare all'ufficio cambio della stazione chiude alle cinque in un negozio del centro ecco il conto si accomodi alla cassa dov'è il cassiere non lo vedo oh scusi ha ragione faccio io allora accetta un assegno no accettiamo solo con tanti qui ma almeno un assegno turistico lo prende sì se ha il passaporto no non lo porto mai in borsa ma ho la patente